Il porto di Forio ci troviamo proprio sul molo dei pescatori, l'antico molo dei pescatori in compagnia di Otto che possiamo dire ha tirato fuori quello che è una sorta di inno nazionale foriano, sta spopolando su Facebook, sugli altri social media questa canzone che subito entra nell'orecchio e soprattutto nel cuore non solo dei giovani ma anche delle persone diciamo più anziane, più adulte e da cosa nasce questo tuo personaggio così fresco, così bello, così foriano e da dove nasce l'idea di tirar su un testo del genere? Innanzitutto buonasera a tutti, Otto nasce un personaggio che nasce così per caso nel senso che era piena estate del 2020 quindi eravamo in lockdown, eravamo a casa, era prima dell'estate scusa e noi musicisti ovviamente tu sai che io ero musicista e quindi noi musicisti non potevamo esibirci più, non potevamo più svolgere il nostro lavoro e quindi pensai a un'alternativa visto che era una cosa che faccio tanto tempo quella di creare delle parodie cioè mettere dei testi divertenti su delle canzoni molto famose è così che nasce l'idea di creare un personaggio e quindi nacque questo Otto. Otto si occupa di parodie musicali quindi prende dei testi dei brani famosi e li rende più divertenti. Per quanto riguarda il brano Furio, questa è una cosa insomma che mi è venuta un po' per caso, ero per strada, non ricordo neanche a fare cosa e all'improvviso cominciai a canticchiare questo Ye Song Furie e Ne Sonnete a Furia e da Ye Song Furie e Ne Sonnete a Furia nasce l'idea di fare un brano con un dialetto furiano che non è un dialetto furiano arcaico cioè un dialetto furiano attuale, quello che parliamo noi giovani furiani quando siamo fra di noi a fare Marenne o meglio Zuffanielli e quindi ecco piano piano è uscita fuori questa canzone con una base reggae molto semplice però che insomma portasse avanti un po' quell'idea nostra del paese, delle tradizioni di Furio insomma di quello che è. E' molto bello insomma che i giovani sbandierino quasi orgogliosamente questo loro legame con le generazioni passate e lo fanno in maniera ecco così moderna coniugando appunto la tradizione con la musica, con l'allegrezza, con questo spirito furiano che forse si era un po' perso e che tu con questa canzone, con questo testo sicuramente hai saputo tirare fuori perché percepisco anche nei giovani questa voglia anche di non vergognarsi più del dialetto perché era considerata quasi una lingua di cui vergognarsi. Invece è bello tirar fuori anche questo slang che ecco coniuga appunto la modernità con le generazioni passate. Allora io quando inizialmente concevi questa idea devo dirti la verità non te lo sascondo parti cercando di fare un brano nel foriano più quello bello stretto verace perché comunque sono foriano da generazioni quindi lo conosco, mio nonno me lo ha insegnato, i miei zii, i miei genitori insomma è una lingua che noi conosciamo bene soltanto che quando ho cominciato e ho detto a Luca l'uso un barataur nasce sempre Usaul mi sono dovuto fermare e dire ok non possiamo farla proprio in un foriano stretto a stretto ma cerco di utilizzare quel dialetto che è nostro perché noi giovani soprattutto noi del nostro gruppo di amici lo usiamo spesso cioè quotidianamente senza neanche farci caso e lo usiamo in modo orgoglioso come dici tu perché a prescindere che possiamo essere a Forio o in qualsiasi altro comune d'Italia il dialetto fa parte di noi cioè in Italia si parlava il dialetto l'italiano è arrivato dopo e non lo sapevano parlare neanche noi siamo andati a fare la prima guerra mondiale che non ci capivamo tra italiani per dire e quindi è giusto che nel 2022 qualche giovane ma giovane non come noi giovane giovane ragazzino che ancora non ha approcciato insomma all'orecchio a queste sonorità che sono legate un po' al passato è giusto che abbiano anche un modo per poter incominciare anche ad assorbire un po' la nostra tradizione anche dialettica. Ecco un'ultima domanda se ci puoi anticipare il prossimo progetto oppure sarà anche questa una sorpresa dirompente? Allora i prossimi progetti sono sempre parodie perché io faccio parodie però ti devo dire che mentre facevo questo brano su Forio mi è venuta un'altra idea non vorrei peccare diciamo nell'essere ripetitivo però ci sarà un bel brano in Foriano un altro brano su un'altra cosa nostra tipica particolare. Grazie. Grazie a voi.